Come Ministero del Lavoro noi non siamo fermi, in accordo con il Ministro Speranza e con il Ministro della Salute che è presente, stiamo rimettendo in piedi un percorso che è stato sancito con la riapertura del tavolo sulla sicurezza sul lavoro al quale erano presenti INA, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Inps, al fine di fare cosa? Attuare finalmente l'81 del 2008 e avviare laddove è richiesto un aggiornamento.